Buongiorno signori, da Matteo Barberi, direttore Virtual Meeting. Oggi volevo con voi condividere una preoccupazione che molti clienti e possibili clienti mi chiedono durante una trattativa commerciale. Qual è questo timore o questa preoccupazione? È quello di firmare un contratto con i servizi online che vincola il soggetto o l'azienda ad un contratto con rinnovo tacito della soluzione in più anni. Magari voi avete necessità di utilizzare il servizio di videoconferenza o servizio di learning per uno o due mesi. Noi come policy e come politica aziendale non facciamo firmare nessun contratto vincolante per voi. Noi abbiamo esclusamente, offriamo delle soluzioni che possono essere mensili, trimestrali o annuali. Il cliente fa un preacquisto di consumo per il mese piuttosto che per i tre mesi. Quando terminerà la scadenza naturale del periodo, che può essere un mese, tre mesi, dici mesi, voi ricevete esclusivamente un'email con cui vi chiediamo di rinnovare la soluzione. Se non provvederete a rinnovo, per quello al pagamento della soluzione, il contratto e la stanza si eliminano automaticamente. Allora, quella preoccupazione di trovarsi come molti clienti che sono entrati nella famiglia virtual meeting, per quello hanno lasciato altre soluzioni dei competitor, proprio perché si sono trovati a dover affrontare dei contratti vincolanti anche di due barra tre anni, a loro insaputa questa. E qui voi avete un rapporto commerciale trasparente. Acquistate un mese. Volete provarlo per un mese? Provatelo per un mese. Se siete contenti e noi ci auguriamo che sarete soddisfatti dalle nostre soluzioni, potete acquistare una soluzione trimestrale, annuale e anche per anni successivi, ma senza vincoli. Cioè, se non rinnovate il contratto e non pagate per il consumo che avete preacquistato, noi parliamo di preaconsumo acquistato, che può essere un mese o 12 mesi, la differenza sostanziale con l'acquisto mensile e annuale è che, se effettuate un acquisto di 12 mesi già acquistati, il vostro prezzo di acquisto sarà più competitivo. Cioè, avete un bonus di almeno il 20% sulla soluzione che andate a scegliere. Per quello, garanzia, una garanzia di trasparenza commerciale, sicurezza, utilizzatelo, provatelo e poi condividetelo con i vostri cari amici. Grazie e buona giornata e buona formazione online.